In pieno successo con un nuovo singolo in rotazione radiofonica, splendida ostinazione e anche alle prese con una tintarella forsennata, Marco Carta sta decisamente vivendo finalmente un nuovo periodo di sorrisi e serenità. Ha allontanati alcuni problemi che però bisogna dire che è sempre riuscito ad affrontare fiero e a testa alta, il cantante è in procinto di partire con il nuovo tour estivo e si gode ovviamente la soddisfazione del suo primo posto in classifica. Come sempre il vincitore di Amici di Maria De Filippi ha voluto commentare la bella notizia utilizzando il social network per eccellenza, ossia Facebook e ricordando la madre scomparsa quando lui aveva 10 anni. Qualcuno lassù mi protegge? Io lo so, ha scritto, il motivo della mia felicità è perché viene preceduta dalla mia serenità che per nulla al mondo verrà compromessa. Un messaggio sicuramente commovente indirizzato alla madre con una chiosa invece indirizzata a tutti i suoi fan. A voi devo tanto, devo tutto, questo primo posto in classifica mi rende fiero del lavoro che ho fatto per tutti voi, grazie. Insomma, Marco Carta si prepara a vivere l'estate tra tintarella successi e sicuramente un live che coinvolgerà tutte le cartine d'Italia. Grazie Grazie Grazie